Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI ci sono code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze per viabilità esterna che non riceve, fare poi attenzione per un veicolo fermo tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione Pisa e per personale su strada tra Pisa Nord-Est e Navacchio in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra Poggi Bonzi e Sandonato in direzione Firenze, chiuso lo svincolo di Poggi Bonzi Nord. Sulla Statale 1 Aurelia riduzione di carreggiata per lavori tra Rio Torto e Venturina in entrambe le direzioni. Sulla Statale 12 della Betone e del Brennero senso unico alternato per lavori in tratti saltuari tra Pisa e Dogana Nuova. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!